dobbiamo vedere dalla live no si no si aprirlo su prime no dobbiamo vederlo dalla live per avere lo stesso ritardo che a moro no in realtà se da 321 ci mettiamo con lui noi l'abbiamo sempre fatto col nostro aperto l'ultima volta che l'abbiamo fatto quello di Halloween no ma basta che aprite quello dei termos si che così abbiamo lo stesso identico come faccio? vediamo quello dei termos un pochino nostro dei termos non l'ho mai fatto devi guardare la live con il profilo dei termos marco ci vuole molto aspetta vado a farlo allora posso intanto lo cerco intanto lo cerco intanto lo cerco Harry Potter Harry Harry Potter Harry Potter e l'Ordine della Fenice vai dai mi partirei dal quarto Harry Pollice a metà strada Harry Poltergeist è la pietra fenomenale grazie Andre Masi se avete tutto io no perché andrei a prendere prima di far partire andrei a riempirmi l'acqua vai vai dai avevo proposto di fare il contrario dall'ultimo al primo io i primi sono quelli che preferisco ti sei alzato il volume? a chi? a te ah non lo so ti sei sminchiato il game? non lo so vai a vedere impostazioni e audio eh sì non so perché bla 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 prova 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 no si sta alzando il game perché? ah dal sito mi sa che mi ha cambiato perché oggi ho fatto i test con la web eh no si rimetti non ti prendo le cose perché oggi ho disabilitato una roba devo disabilitare solo una ce li facciamo gli auguri che spavento a me ci sono quelli sono i distritti buon morale capito con Natalia un piatto grazie seguace grazie mille seguace grazie bello primo o il secondo il primo di riposizione non è lì troppo il Matrix giusto sì a mischiare un po' il tutto quando si gioca con i sub quando facciamo club games probabilmente stasettimana salta la settimana prossima lo facciamo perché stasettimana è abbastanza pregno di roba oddio in realtà giovedì potremmo anche farlo adesso vediamo comunque non è detto che ci sia stasettimana ah se io faccio così poi mi risistemo l'audio a 70 faccio prova 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 provare prova ok non lo fa più ha dovuto riabilitare una delle due webcam eccomi oggi ho fatto dei test per domani sono preso due cioccolatini anche io no che oggi mi è venuto un brufolo sopra la testa e ho detto basta troppi dolci a me appena mangio un pelo di dolcime subito brufoli a mangiare Marco che schifo a mangiarli un po' posso siete andati in bagno avete fatto la cacca io seleziono il titolo io seleziono il titolo allora prego quindi sto guardando la live nostra dal nostro account giusto l'ho partito l'ho partito fammi accedere in questa nuova scheda ah no ma devo accedere col nostro amazon però ah si no è vero io lo guardavo ah no no guardavo da me lo guardavo è andato uguale però guardo guardo te Marco e lo avvio mi dite i secondi un attimo al volo ma i secondi non ci sono tanto perché fa in automatico non ci sono no io apro apri in video quindi sono direttamente uguale a voi guarda la live di termos dal tuo accanto di twitch siamo sincronizzati bene bene adesso vediamo in caso ti do no partiva subito è andato via tutto tra l'altro devo montare anche ma poi io avevo già visto dei film su twitch mi ha fatto rilogare adesso vabbè fammi iniziare a guardare per favore 5 4 3 2 ma cazzo l'audio c'è da me no si si eccolo a me non funziona niente aspetta che refrescio Marco dai ti stai perdendo la parte fondamentale 4 3 2 1 detto importante secondo me non è importante comunque ok il ciuccialuce riportare i ladri della luce ha spento ha acceso è spento è a posto mi fa male la gola mi bevo un secondo un pippo ma c'ho l'audio basso è basso l'audio del film no poi dopo quando ci sarà pipì pipì non si sentirà più niente ma perché ci sono pippoli voglio guardare in inglese o in italiano ma io lo guardo in italiano dopo 2000 rewatch grazie 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 mi sta andando via la voce domani pomeriggio devo parlare un boccano se parlare un pelo non sento niente ragazzi è molto basso che palle agrid che arriva con sto rumore a me l'ha fatto un attimo dopo il rumore mi piace la pizza pozzer dai mangio un cioccolatino come al solito effetti fortissimi e le voci bassissime mamma mia se mastico non sento ma così tanto moro alzo a merda qua e adesso vi farò tutte le curiosità tanto una curiosità è che questo qui non è harry potter ma è un bambino che hanno preso per fare harry potter da piccolo ecco prima curiosità non è un bambino sono tre bambini no è un bambino hanno usato tre gemelli non ci stanno tre bambini lì dentro caralla grazie mille hanno usato tre gemelli ma non ci stanno lì dentro no perché era impossibile era impossibile metterci le fit erano inglobati moro che ne capisci tu di nascita veramente ti sbuncia la subaro eh che nome è ti sbuncia la subaro ora questi tre gemelli sono steel jobs harry potter lui non è vero non ha gli occhiali quella è fatta in digitale l'audio però madonna oh madonna rifresciate ragazzi ha una scatrice a forma di n sì scemo di merda zia petugna fa ridere comunque sembra un peto più che un fiore no lui voleva un'altra cosa ah vada che davro ah vada che davro alla n del napoli sulla fronte grande tifoso harry sì ma era crudeli eh è passato crudeli in strada comunque tu Marco sei più indietro di venti secondi se mi guardano su prime te lo conto eh vado su prime allora aspetta ma immaginavo che ero indietro avete notato sta cosa avete notato sta cosa no sto andando su prime escono dal rettilaria e hanno tutti la divisa verde e comunque perché avevano il green pass datemi i secondini siamo a sei minuti e diciotto diciannove venti ventuno ventidue 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 camp vedevo che c'era un attimo ma è un tipo 4-5 secondi che domanda è Enrico che domanda è ma fallo rispondere scusami sembra Aldo Sione e Giacomo lo scherzo il tour de France chi è che l'ha vinto chi è che l'ha vinto ma perché deve essere violento questo scemo ma chiama il telefono azzurro certo che Dadle è l'equilibrio di un pirla però eh eh lo è grazie Mujan grazie 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 anche lui te lo dice aspetta per la sub chiudete e riaprite se non va è capitato anche a me la prima volta dovrebbe sincronizzarvi poi piano piano andare va problemi non ce ne sono mi pare di capire ma poi io voglio sapere come l'ha liberato voglio voglio il retroscene ah c'è lo spin off the course inside se lui che bella coppola che ha zio Vernon che bella coppola che ha zio Vernon ha scorreggiato no a maggior ragione che non esiste cosa lo sta incolpando a fare scusami se non esiste lui lo sa che esiste eh si che è lui che lo sa no ma lui ha detto non esiste quella roba eh ma lo sa in realtà sa che esiste ma che lo sa anche lui è un mago Marco mi sei caduto sul gufo no ma cioè anche se lo sa così cioè se sai che lo sa anche lui no lui non lo sa e non lo deve mai sapere Harry Potter zio Vernon lo sa invece per questo l'ha detto non esiste ma che cappello perché ha il cappello così oh in gulp credo che vabbè Dudley non lo sa ma gli altri e lì c'è lì già c'è la beh Mi sa quanta cacca poi questi gufi qua Edwige Fennec poi c'è No non è vero No non è vero No non c'è Edwige Fennec C'è un gufo che si chiama Edwige però Che è una civetta in realtà Sì Andrea Ma guarda le foto poi Che foto sceme Mi metto un po' sdraione io ragazzi Tanto chi se ne frega Non si brucia la carta Si ricicla Eh ma mica c'avevano Il riciclo E' ambientato Nell'842 Harry Potter Effettivamente questo quando è ambientato Era proprio ambientato quando è uscito Ah non era quando è uscito il film No credo che la Finisce prima degli anni 2000 La storia Nel 94 No credo 91 Dai vestiti e la tecnologia Si sarà 90 Non c'era internet Non c'era uno cellulare Non c'era sta roba No appunto Tra l'altro questa non è fatta in digitale Mi pare di averla vista questa cosa Queste sono proprio tutte le Centinaia di lettere hanno lasciato Grazie Black Celtics Grazie Black Black Celtics E voglio sapere No Allora innanzitutto Qui come ci sono arrivati Dove l'ha trovata Era loro questo posto E l'ha comprato E di proprietà loro Tra un cacchio Poi che lavoro fanno loro due I guardia Ah no loro Lei credo sia casalinga Lui è Casalingo No lui Sono tutti Hanno ereditato cose Non mi ricordo se nel libro Dicevo Dell'Adidas E' scemo Non mi ricordo E' un po' indietro anch'io Effettivamente Comunque Excities Grazie 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 Che bello L'ho visto ieri Tra l'altro Signor Scrooge Vendono trapani E robe dell'edilizia Ah si era vero Quello di trapani Vero si Lavoro con l'esprit Vabbè Eh mi conti Moro quanto Siamo a 13 minuti e 27 28 29 30 31 Ok perfetto Perfetto E siccati Tra l'altro qui non è lui Non è il vero attore Con chi? Hanno usato un Reggbista gigante Per fare Con gli altri attori Perché sennò Non si vedeva la differenza Ah Quindi puzza di culo Mi spiace Sì a parte che Ti sei seduto sopra Se Doveva essere Una piuma Una soglola Doveva essere Se avessi sparato Se avessi morto Hagrid Sì E non sarebbe Partito Eh no Qui Devo capire Il motivo Perché lui Non può far magia Magari perché sa Che la famiglia Conoscenza E quindi Lui Gli hanno tolto La bacchetta Da quando c'è stata La storia Con il ragno Sì però C'era C'era un motivo Eh non me lo ricordo C'era tipo Sottobanco Infatti è nascosta Dall'ombrello Per quello O è solo L'ombrello magico Fa ste cose Basta Posso fare uno spoiler Su Hagrid Eh non sono spoiler Sarebbe meglio evitare Per chi lo sta vedendo La prima volta Con noi Eh lo so Però c'è gente Che lo sta guardando Adesso la prima volta A mezzo bacchetto L'ombrello ok Se non si può più fare Spoiler di Harry Potter Che è uscito 21 anni fa Vabbè ma allora Quelli nuovi Che se lo guardano a fare Con noi Se ci spoileriamo tutti No Ma non è un mago no Mago no sono quelli Che non hanno magia No no Lui li ha proprio tolta Per i casini Che c'erano stati Che poi si vedranno Vabbè se non c'è nel film Non è spoiler Tecnicamente No Non porta a niente Che è collegato ai film Comunque si È panno fino a grid Sì E legge tutti i libri Ma poi perché Cioè ve lo fate Ve lo levate dai coglioni Perché non dovreste Poi lei Lei nei film viene trattata In modo molto diverso Che nei libri Soprattutto negli ultimi Una spostata Grazie a tutti Grazie a tutti grazie a tutti ah vada che d'apro morto secondo me è carina la coda così a ricciolo come la giustifichi all'ospedale se la tagliano eh vedi quello dice nel libro lo fanno operare? ah si c'era l'operazione però vabbè resto pipì peripì questa è tutta in computer grafica tra l'altro questa città non esiste ragazzi e l'apostrofondra eh questa è una chicca perché questa me ne ero accorto che le insegna si illumina quando si avvicina me ne sono accorto le insegna in alto a sinistra era tutta nera quando si sono avvicinati è comparso che è scritto il calderone magico ma Canella ha fatto la cosa di tutti i film? no solo di questo perché di questo è uscito lo speciale adesso per i vent'anni lo porta in un bordello entra dentro e c'è le prostitute gli schifosi tanto questo il barista è Voldemort Harry Potter ma il signor Scrooge che stronzo invece lui è il barista è certo tanto è il doppiatore di Robbie Williams non so se non erro può essere non gli ha spiegato un cazzo non gli ha spiegato i primi anni è famoso poi non se lo fidano di strisci è vero non gli ha toccato la mano effettivamente sono molti particolari che poi sapendo tutta la storia li rivedi effettivamente l'hanno fatti bene nel film senti mamma ho perso l'aereo è un pochino sì a me piacerebbe un sacco andarla a vedere le diagonali a Londra agli studio questo sarebbe molto figo negozio di forbici famosissimo basta che non le usate quando correte sarebbe stato figo anche solo farla comparsa in sti film cioè comunque è figo no il covid le balle di fuori ci sono molte altre cose che hanno inventato nei film che non hanno senso un doppiaggio al bambino guardate che roba la nuova Nimbus 2000 si è il mico sfondato bravo Luke i gnomi delle feci quasi sono sono folletti non sono i gnomi delle feci aspetta sono folletti si c'erano gli gnomi? no credo gli gnomi qua non ci siano no però non so mi pare ci sia gli gnomi come creature no no ormai ormai sono gnomi questi non ci ha scritto segretissimo ci ha scritto top secret basta che belle le grotte di frassassi è venuto in mente il mini me di Austin Power è lo stesso attore dei mini me quello principale forse credo sia sempre lui credo sia sempre lui che hanno fatto diversi non lo so immagino questa è l'anduia gliel'ha fatta la nonna giù in Calabria e l'ha messa qui nei sacchetti adesso va no è una cosa gigante nell'inquadrimento invece piccolissimo il tuffo di alba la coca certo ovviamente la bamba eh via ovviamente certo ecco cos'erano i segreti di Silente lì già vedi questo spin-off la gran droga le pisciane mi devo fare una tisana comunque ragazzi ho la voce veramente distrutta spera che quali sono tutte fatte a mano tutte scatole hanno solo riprodotto eh no è chiuso no e lui è deceduto sì sono morti tutti soprattutto i genitori di Harry tra l'altro questo bisogna ricordarlo bene casca tutto casca tutto devo devo lo somiglio un po' a i McKellen ah 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 vada che davro ah che devi rimettere tutto a posto noo bestia vorrei una serie su olivander comunque su tutte le cose che ti distruggono il negozio prova l'album si effettivamente potrebbe fare una stanza per le prove un mirino tutto in cautela invece no la più brutta gli ha dato guarda che schifo di bacchetta no ha aperto la porta fa corrente insinia ah scusa la fenice è la fenice di Silesis ah tu ero un istigatore di volta cos'è questo l'hai stigato al terrorismo olivander qui comunque sgamato volva no sono io che cerco di non citare One Piece niente subito incarcerato ha detto la v word ragazzi due volte l'ha detto buonanotte bruttina con la coperta amore dove l'hai presa? l'ha fatta mia nonna no mi dispiace per tua nonna che ha perso tempo amore no no ma tiene caldino non è un bambino sono tre bambini anche lì no 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 è ancora in circolazione no per me è morto che parla l'abbia rovinato per sé no chi ha visto la poop per me è un mago chi ha visto la poop qui si è rovinato questo momento per sé in turno he saved the line no è Gandhi ah che parla ragazzi come è adesso che ho rivisto Spider-Man 1 un po' di volte è tutto meme tutto meme no 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 adesso basta fermiamoci che se no veramente non posso più sentire parlare Pannofino tra l'altro Pannofino era anche il il Goblin in Spider si ma qui come come gli è venuto in mente di non dirgli che deve passare attraverso un pisello eh ma le prove dei maghi Moro ma che prove dei maghi ma è Agri da lui mica deve passare da lì non si ricordava neanche più che funzionava con lui è scomparso vedi Pannofino era proprio sì sì quasi ogni stazione a Milano mi sembra che poi non stavo pensando è vietato materializzarsi dentro Hogwarts però loro per andare dentro Hogwarts ci vanno con la barca con il pisello con il batter non possono materializzarsi alla fine della fermata del treno almeno eh zium zium ha visto anche lei cambiati però anche loro non sono cresciuti no adesso come ci dorme la notte scherzone ragazzi no loro non lo sanno fare adesso chiaramente però gli anni dopo sì faccio di culo Ed Sheeran bello è stato in un video musicale sì scopano spoiler moro scusa ragazzi io aspetta moro guarda adesso quando passa quando va davanti al treno guarda cosa c'è in fondo no cosa si vede in fondo qui nessuno o quasi nessuno se n'è accorto guarda i primi primissimi e chi sono è Neville con la nonna la nonna non si è mai vista e viene sempre citata che storia la nonna di Neville avevo visto che era Neville Paciocco ma non mi ricordavo che si chiamava Neville Paciocco cioè mi è venuto in mente anche il cognome poi dopo che ha detto Neville questo ragazzi era quello che girava col bluetooth sul telefono che a un certo punto c'era il jumpscare se vi ricordate che seguivi la macchina e poi veniva fuori lontaggiato il treno al posto della macchina ma è quello il video diceva sì e quindi basta era finito sì scusa ti dispiace chiudeva la porta e Ron se ne andava lontano verso gli altri diventava sempre vero sono Ron pipi pipi riri pipi sempre Gabbo io ho visto il video di Carell sto citando tutto il video di Carell sì sì Lietzar si è preparato il video di Adrian qualcosa del carrello ho i miei tramezzini impoltigliati nella merda di pellicola chissà se c'ha le cipolline di tramezzini lo compro cioè Ron non ha mai visto dei soldi in vita sua quindi era un pochino emozionato è schifo ma poi dopo un po' si spengono si spengono no no sono di cioccolato prima pozzanghera vabbè giusto si squagliano spacchettamento domani ragazzi domani pomeriggio ma perché ma perché adesso gli fa Avada Kedavra guarda sarebbe finito il film che è verde si tra l'altro Avada Kedavra no Avada Kedavra è schifo è schifo Luke beh bravo non è che pugni Hermione smetti Hermione aveva veramente troppi capelli comunque aveva dei capelli sopra i capelli aveva un cappello di capelli credo siano i suoi era molto voluminosa di capelli Avada Kedavra grazie Simone grazie Simone D è la prima volta che puntano una bacchetta una pistola Avada Kedavra Just Ron a vedere questa cazzetta io da piccolino non me ne è mai fregato niente di Hermione ero impegnato ad amare Melissa John Hart che era Sabrina in Sabrina Vita da Streg e Buffy anche non gli puntare la luce nella faccia scusa ma scusa ma Ron dove ha vissuto cioè lui che non è beh non l'ha mai arrivato qua no lo so però lui non sa chi è lui ha vissuto la magia da quando lui non ha mai visto Hagrid eh ma avrà visto qualche cazzo in giro beh i giganti in realtà no erano tutti esiliati i giganti in realtà poi Hagrid è anche un mezzo gigante non neanche un gigante no c'è 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 il castello che non ha mai visto nulla di magico in vita sua è impassibile Adesso li accoglie Silvan e parte quella trasmissione Non so se era un vero castello Che poi hanno reso tutte le varie cose Oppure tutto Grisky No mi pare che Una parte sia vera Una parte sia stata riprodotta veramente Tutte le panoramiche sono su un modellino Vabbè quello si Intanto c'è ancora il modellino Sempre all'istudio E mette il vero e mette il no Il serpentino Quello è stato arrestato No quell'altro Non vedo il dito lì E poi dopo Io non me ne ricordo più cos'è Giovanna d'Arco Giovanna d'Arco Griffon Giorgio Paolo Vrosio E Serpe Merde Cambiato tantissimo Poi quando è andato grande Che simpatico Neville Neville Paneciocco Ecco quello tutto Sulla sinistra Ok ok Faccio così Che in inglese si chiama Neville Culo Lungo Porca miseria Quello con la faccia più quadrata C'è ancora fino alla fine l'altro Invece viene arrestato al quinto film Sì nel quinto film Arriva la polizia A Hogwarts lo arrestano Eh anche Anche Harry ha rischiato Pensando che era sempre ubriaco sul set Anche qui No No Quello un po' più dopo Che vime Callister qui ogni volta Tra l'altro qui se lui gli dava la mano Gli faceva questo incantesimo Che sarebbe stato lo suo Servo per sempre Era un inganno Guarda che di comparse Ne hanno chiamate veramente tante Per fare tutto Quello sarebbe stato un watif Isaac Ma chi è questa qui a destra E quella a sinistra Ma chi erano Eh sono i cugini I parenti E' morto dopo due film Spoiler No Nel senso Spoiler Irl No la striscia Di cazzo sì Guarda quello lì non è un gatto Ma è un flerkin Viene dai guardiani della galassia Però che non è un gatto È vero Mi fa le gas con Quanto è durare il mio Scusa Era tutta rigida Che ordine avevano scusa Sì non ho capito Non ho fatto Ma che ha ordine alfabetico sì C'è Ron Chi disprezza compra Dopo otto film Ho capito Ho capito Non si applaude così Silente Non fa nessun rumore Se fai così Stupido Grifondoro Uno che si chiama Draco È ovvio che va Malfoy È quasi malvagio Come nome No Che fai Lei è la figlia Susano Susano È una poop Lei è la figlia del regista Ah che storia Eccolo Renato Calo di zuccheri Erri Sì Napoli ha preso gol No Tassoros e Corvo Nero Sono quelli che Non frega niente a nessuno Tassoros Io ero Tassoros Corvo Nero però Sono quelle due case Dove sbatti la gente Che non ti interessa Beh Scamander Il miglior personaggio Della saga di Harry Potter Scamander Ah ma da che d'avra Anche lui Vabbè ma lì sono scontati Scusa è ovvio Tra la famiglia lì Che carino Neville Pachoc Da piccolino È un Pachocconen Pachoc Fai più occhiali fastidio Guardava sempre in basso Silente Che c'è gli occhiali a metà Beh era altissimo Guardava tutti Ah Come si fa? Juventus No aspetta Sbagliato Ovviamente Lui è difficile No? Gli altri istantanei Eh ma perché c'è anche La parte di Voldemort È vero Quello è vero Napoli Non l'avevo mai pensato Così effettivamente È vero Perchè non tasso rosso? Perchè c'erano gli altri due Che conosceva Penso e basta Penso solo per quello Com'è che adesso applaudiva giusto? Silente? Eh perchè Perfetto Prima ne sbatteva una sega Ah beve paura guarda Ma che se beve oggi Come Mariola Come si sentiva Ma che stonks Questa cosa Poi molti Molti che vedono Solo i film Credono che Che compaia per magia Il cibo E invece no Non è che poi Fa compaire Viene spostato Per magia Sì ma Ci sono i folletti Cioè viene effettivamente Comparso Compare per magia Ma nel senso Non è che lo creano No non è che lo crei Vengono fatti dagli schiavi Dagli schiavetti Sì tutta la storia del crepa Che lei Vuole liberare tutti Gli elfi domestici Non c'è Non sto capendo Cosa sono alcune cose Cos'è questa montagna bianca? Verdure? Cavolfiori? Cavolfiori Sì Vedi qua ci sono i broccoli Ma i broccoli Buono Vado io al tavolo di pito Gli dico Frat Metti qua C'è un po' di pollo Sì Nel primissimo Questo tra l'altro È tutto cibo vero Non è fatto digitale O finto No Tra l'altro fa Niccolò Fabi Ragazzi Lui è coso Come si chiama? Lui è un attore famosissimo Che aveva fatto dei Non è quello di La casa È lui No Non credo No Non è lui Scusami Lo confondo con Ha i baffetti anche lui Quello di Montipitone Ah ok Sì Che però è simile Io lo confondo sempre con Un coso Ah non lo sai Ermione È scema Ah non ha letto i libri? Non ha letto i libri eh Sano Non c'era in storia Ma che poi già c'è il filetto Appena appena che gli tiene la testa Se continua a fare Non c'era la storia di yogurt Va bene Non poteva dirlo Più Semplicemente Questa ce l'ho fatta Il computer Praticamente le chiave Le scale si muovono State moccio Venite 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 No il cosmo sul comò Ragazzi Sì Equilibra Qui c'è il body shaming Caput Caput Anche lei è cambiata Tra l'altro Poi la posizione Dell'ingresso Cambia sempre Sì è vero Ma cambia anche La signora grassa Piccio caput Piccio caput Il cappello Lei è la quarta regie Regi gigas Regi gigas Sì Nella sala grande Era 9000 Ah perché in teoria Cioè In effetti non ho capito C'è il dormitorio Comune per tutti gli anni Non solo per Il primo Sono entrati in 20 Gli altri dove cazzo sono andati Ma che ognuno ha la propria stanza Eh no No I dormitori sono da 5 Le stanza sono da 5 Lo sai Eh no ma lì erano Quando sono entrati Nella sala comune Di Grifondoro E quella Ma che bel pelo Ha sgamati La scena Ha fatta Bene la trasformazione Sarebbe che è 2001 Ha 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 La sua rivezria Qualcuno ha bisogno Di una mappa Ha finito la lezione Ha già cambiato Però che fastidio Quando hai chiuso la porta Guarda come Struisce i sorcini E' bravissimo lui Poi però Va da Kedavra Non si può fare Cioè due sta roba Si Può darsi Ma è che lui Viene scazzato adesso Ma sta prendendo appunti L'unico Ma stava prendendo appunti Poverino Eh Cioè appunti di cose Eh Quello che diceva Eh ma erano cazzate Quello che diceva Sapeva anche lui Che erano cazzate Ma ancora nella prima lezione Non gliel'hai fatta E lo so Ma lei era già maga Ma lei era già maga Da mezzo anno sono tutti Non lo so io Non mi ricordo Nello stomaco della capra Marco Vabbè Vabbè Va da Kedavra Il doppiatore è bravissimo Mori di fissa È Runei, vero? È Runei? Quando è più grande Guardo Jeff Bezos che iniziava anche Eh sì, qui era con i droni Ah sì, due sorsetti, dai Laura Whisky e ragazzine, vabbè, ma è Whisky Magico poi Eh, mica fa male No, no, al massimo no Molti dicono che se ne erano accorti, io non me ne ero mai accorto Adesso, adesso vedi Ah, vedi, è lo stesso di Gollum, il doppiatore di Python Ecco, lui diceva sta cosa, no? Eh, vabbè Ma chi te l'ha chiesto? Eh Ecco Però fateci caso È l'unico senza divisa Quello si è dimenticato Ah, ecco È l'unico senza divisa Il mantello Madonna, qui c'è È una delle CGI più brutte della Mi ricordo La storia di sempre Me lo ricordo Me lo ricordo Irene Pivetti Ma non mi ricordo che aveva gli occhi arancioni Lei l'ho rivista di recente anche come attrice Non mi ricordo dove però Succa Ah, scima Ma ero bravi a fare comunque già le spessore Da piccoli Porca bestia Sium Sium I piccoli Ronaldo Ragazzi, io devo stare zitto fra poco Non mi hai fatto urlar Che rido E mi nervosisco Ma sì, Marco Ma va un culo, dai Eh no, ma io ci vado Urliamo, urliamo Vado proprio Oh no Però bravo, sa già volare Vedi No Vabbè Va a decollare Poi Ma non è che lo sta facendo apposta Signora Lo vedi che è un imbecille Ma non c'era un sistema di sicurezza Guarda, adesso attenti ragazzi Annevile Guarda che buffon che ho fatto Eccolo E qua era veramente Guarda, che schifo Madonna Che schifo Adesso quando cade è bellissimo Vabbè, lì è Vabbè, ancora peggio prima Qui ancora ancora ci poteva stare No, si è riscordato la giacchettina Appesa lì Vabbè, anche se è riscordato la giacchettina E' un telefono, è vero Fatemi guardare Vado a farmi la tisana Arrivo subito Tra l'altro c'era una magia Per non farsi male ai coglioni Quando vai E non è una cazzata questa Vector, reggi regolamento Non si mettono il link in chat Ma è educato La panna è la mia granit Oh Incanto Protegos Corotum Si Però dovranno cacciarlo fuori veramente Però qua Dovrà finire il film Invece Non vale Perché le regole non valgono per tutti Perché siamo in un sistema Di mafie E mica mafie Perché le regole non valgono per tutti Regalo Cosa cazzo non sapeva Queste hanno già tutto Tutti Cosa cazzo non sapeva E' un'altra cazzo non sapeva E' un'altra cazzo non sapeva Il film Qui c'è una cosa che hanno aggiunto Solo nei film Non nei libri Guarda chi c'è là C'è McGonagall Che è la McGranit Si Ma non si è mai detto Nei libri Che giocava a 15 L'ha messa pure su animali fantastici La McGranit Che non Non esisteva E' vero Ma si esisteva Ma non Non era insegnante di certo No Che spaventa Grazie parroco Grazie parroco Ita Ah vai a vederlo al cielo Vabbè ci sta Questa qui è la statua Del cantante Di un gruppo famoso Non mi ricordo adesso però Chiuderlo bene a chiave La portano Con qualche incantesimo Che senso ha lasciare aperto così C'è questa area Completamente distrutta Del castello Ma pulirla Usarla Eh no Eccomi qua Pisano al finocchio Buono Era un po' Che non la bevevo Però Il lucchetto c'è anche Ma si può aprire con la magia Un qualche incantesimo Comunque per chi scriveva Che mi ha segnato Joao Pedro Ce l'ho anche contro Quindi non esulta Che bello Questo me lo ricordo Anche se era fatto malissimo Non è fatto male Dai Non è fatto male Anzi Dai per i tempi Effettivamente Bene non è fatto Però era il 2000 Sì Non è fatto bene Ma per i tempi Adesso chiamano subito La polizia Guardate che c'è una bestia Di sata Cioè un cane del genere Basta una porta Con un gancetto Piccolissimo Vado a vedere Gen È l'olive Ferro Mi è arrivato un gazzo Espelliarmus Attenzione Ma tra l'altro È proprio oggi L'anniversario Dei 20 anni Oggi proprio Può essere Non lo so Forse sì Ah ecco È arrivato invece Gen È carino Ma del 2002 Questo qui C'è il libro Di animali Fa stanzi Sì Ma stai guardando È quello che mi ha mandato Gen Ah ecco perché ha scritto Sono albise Infatti c'è lo che dice È vero che la musica È vero che la musica è di John Wayne Tanto Piccolo Of Topic È uscito il trailer Di Matrix Se qualcuno interessa È uscito In Italia Il 6 dicembre Sì È proprio oggi Che coincidenza La storia Noi l'abbiamo fatto Non l'abbiamo fatto Di proposito È uscito Esattamente 20 anni fa Secondo me Herbalite Non è Herbalife Herbalife Forse Ma Herbalife Magari La droga La partita Non finisce Quindi può durare Anche mesi Allora L'importanza Alla Quidditch Lo danno nei film Ma non a livello Di morti E cose varie È importante Nel senso Come da noi Il coso Il Il becchino d'oro Il Come si chiama Quello di football americano Il Mi sta sfuggendo il nome Non so perché L'evento sportivo Più grande Il Superball Il Superball Esatto Te lo spiegano così Nei film Che è una specie Di loro Superball C'è il campionato Del mondo Fanno vedere Molto E basta Ma la figlia del regista C'è in tutti i film Nella classe Mi pare di sì Il regista Cambia Ma in realtà Sono sempre la figlia Di quel regista In realtà In questo film Ci sono Perché il regista Aveva quattro figli Ci sono tutte e quattro All'epoca Nel passato Ma non c'ha voglia Lui Ma palesemente Non aveva voglia Sempre dato Sto professor Ciao mon amor Aspetta un attimo No Trunz Grazie a tutti Grazie a tutti Vabbè Non so se si scappellava lì e faccia vedere A tutti Un troll di sotterraneo Basta sparargli C'è il gatto che gioca Con i suoi stessi croccantini Proprio il livello demenza A livelli Almeno non c'è un troll nei sotterranei Non lo so Non ci vado mai nella cantina Comunque mentre alzavo la tisana Che bisogna fare questo movimento Mi si è tirato qui Non so Quando prendi la tisana fai così E mi si è tirato qua Boh non so ormai il mio corpo Cosa sta succedendo Devo massaggiare Ha fatto il bagno dei sotterranei Doveva andare Lui gli sta sui coglioni Arvione Lascialo stare Allora è sciva dai sotterranei Il troll era fatto malino Cos'è che c'era fatto di Era il troll Vabbè era fatto meglio di Neville comunque Allora è fatto sciva dai sotterranei Non mi ricordo se era il troll Ah sì Un pochino sì Qua c'era Mirtilla No Nella camera dei segreti era Sì ma non è questo bagno No caccioppo ragazzi Ma rifarli un po' Sti bagni sono un po' vecchi Vabbè tutto a posto adesso È morta La scena andava un po' a scatti comunque Sì vero Ma questa è uguale nei libri Cioè va così anche nei libri Più o meno sì Ma scusami Ma perché non hanno avvisato Perché Harry Potter Scusa Vabbè È brutto che sia una giusta giustificazione Perché è da qui che poi Nasce l'amicizia vera tra loro Deve esserci un Cosa che scatturiva L'ha presa eh ragazzi Sì l'aveva presa sulla gamba Foressa Cioè perché ha tirato fuori la bacchetta E poi si è aggrappato a sto cazzone Sto imbecille di merda È come negli horror Quando c'ha la pistola in mano Ma colpiscono col calcio del caricatore E non sparano Fanculo Ah pensavo gli dicesse È vero Era perfetto Bravissimo Voleva alzarsi così E qui ha scoperto la violenza Ron Potrebbe essere morto Pensa se cadeva con la faccia Proprio col muso sul pavimento Rompeva la bacchetta Sì Al tappeto Blè blò Blè 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 No no Nel Mantello Harry Passano sotto l'acqua C'è il rubinetto Che schifo Guarda Peter A me l'ha guardato Peter Ma non poteva dire semplicemente Ero in bagno Ma non gestivava loro Eh vabbè Non lo sono andati a cercare Cioè hanno fatto Poi si sono trovati nella merda Ma non è colpa loro Loro erano andati lì solo per avvisarla Di venire via Che c'era un troll Ma non vale che le dà punti Loro È la sua casa Non può dare i punti Ma non può Beh c'è tia Ah guarda tu Ah grazie Però l'ha resa benissimo È stato bravissimo l'attore Mi sono Ci ho creduto io Si è cagato vero Eh 5 l'1 Questa bombia magica Che cazzo dici Franci Lei non grida Pippo Però si O meno Era lì Era lì Raptor Pippo Miniera Porca miniera Mi ha giustato carini Ma era il momento della posta Stava mangiando Ah ecco Ho detto la stessa cosa Hermione Brava Perché c'è molto da aprire Si vede Cos'è Chissà cosa c'è Com'è Quelli che impacchietano Tipo l'altro giorno Ho visto Uno che ha impacchietato Una cosa piccolissima Ha fatto una macchina Da Formula 1 Però con impacchi Eh la canto sempre anch'io Franz Un Inbus XP E' la versione meglio Ah ora è tranquillo Pippi Piri piri pippi Musica non bella Si è un bellissimo E' Joe Williams E' Joe Williams E' Hans Zimmer C'è tra Due milioni Guarda una Sherlock Holmes Anche Tornatoro E' vero Non sono la Roma E' vero si Giallorossi Perché Giallorossi Penso ci siano Tre quarti Delle squadre italiane Nel campo Nei libri Le torri Non esistevano L'hanno rese Nei film Per rendere La tridimensionalità E gli effetti Di distanza Perché se no Non si capiva niente Irene Pivetti Vediamo cosa fa Ma non puoi avere Un gioco pulito Se ci sono Delle palle assassine Che girano Per il campo Ma io fossi Allora fossi stato Lì Tra i ragazzini Avrò voluto fare Piccinini Dovevi chiedere A Piccinini Di doppiare Questa partita Perché devo fare Le cose con la scopa Fammi fare Il commentary Sono uno youtuber Fammi fare il commentary Scusa Quanto ci ha messo A fare queste scene Però perché Non deve essere facile Dura anche un sacco Questa partita Quindi Vede che non è fatta Benissimo Però Gulz Angelina Jolie Brava Ma che cazzo fai Deficiente Vai a cercare Il cercatore Di vicino Chi era quello A destra Di Silente Non lo so Magari è uno importante La professoressa Del volo Non c'è più Negli altri Perché voleva di più I soldi E gli hanno detto L'attacchi Ma in realtà Non si vedeva Quasi mai Che fastidio lui Con i denti grossi Ma un bel gioco Fatto bene Sul 15 Da essere fighissimo Ma l'avevamo fatto Ma non quello là Non quello là No che schifo Che quella qui Era tutta di gomma Non ho fatto Veramente bene Con i soldi Ma ci giochi Due minuti Poi ti spacchi Le balle Morto Ma lui sta guardando La partita Cosa fai Ma l'arbitro Ma come non è fallo Ma come non è fallo Ha rubato il ruolo Si può Oh certo Ma si muove Eh no Non è Harry Potter Ma si sta guardando La partita Lui E la spiegazione Più giusta A ogni cosa Che succede Eh purtroppo Ragazzi Il protagonista È Harry Potter Tanto Vector Mi fai partire Il pronostico Chi vince Tra Grifondoro Il serpentino Ma scusa Quando però Vabbè Nessuno che aiuta Loro però Quando succede Agli altri Però lo aiutano Grazie Adesso che siamo Pari Poi Bravo Oh no È riro Io su FIFA Quando Sto fermo Che scambio di battute E Piton Getta il malocchio Sulla scopa Il malocchio Sulla scopa Che cosa facciamo Eh che bovada Il pandoro Ma che poi Piton era Dalla parte opposta Dello stadio Hermione Quanto ci ha messo Ad andare dall'altra parte Ci ha messo un secondo Salire una torre Ma è magia Pure lì Eh sì Quante magie Conoscerei Però Questi Quella Quella è stata Anche una Un quadratura Importante Eh beh Sì Il palletone C'è una cosa Più violenta Di questo Cioè Voldemort In confronto È un angioletto Stai zitto Secondo me Non c'era bisogno Comunque E tra l'altro Vedi questa cosa Dice 150 punti Sì Uno può prendere Il goccino Ma magari sta perdendo Di più di 150 E perde comunque Finisce la partita Ma ha perso comunque Vabbè Lo nasconde Poi lo tira Fa vedere che l'ha preso Quando sono in vantaggio Da quello che mi ricordo Non decreta la vittoria Decreta la fine della partita Eh sì Perché da 150 punti Perché da 150 punti Perché se no non serviva Un cazzo Fare i gol Eh sì Esatto Infatti la fine Della coppa del mondo Finiva proprio così Sì Che qui non lo fanno vedere Però finiva così Dai Magica Ah vedi Questa è un'altra cosa Che hanno fatto notare Come tengono la sciarpa Tipo Hermione La tiene tutta precisa È un po' più strana E Ron Proprio tutto a caso Come i loro personaggi Sono E le sai tu Mica L'hai visto Sì infatti Cos'è esatto Bagianate Oh no Non dire che non dovevi dirlo Sì Per dirlo anche lei Lo deve aver guardato Senza sbattere le palpebre Sì Eccolo Natale Ecco mamma Ho perso l'aereo Quindi Sono cristiani È Natale Anche in Giappone Lo festeggiano Ma non sono cristiani Ma è Natale Festivati già a prescindere Però è nato da lì Ma è che usa il Virkan Il Virkan Di un levio Eh sì Anche lo volevo guardare In inglese Perché non uso Talmente memoria Anche questa È una cosa Che Vedete dopo Tra l'altro Esattamente Alle stessi posizioni Però nessuno Nel quidice Ha detto È una cosa Da barbari Ma gli scacchi Dei maghi Sì Porca miseria Ah Cosa sono I draghi Lì Gli stai combi Ti posero Parli che Poi effettivamente Nevica Natale Tanto se non sta nevicando Lo fai nevicare Te con la magia Che palla Il maglione di Renatino Questo L'ha fatto in 365 giorni Quello il maglione Deve fare 7 miliardi Le deve fare Poverito La pietra Tutti sono film natalizi Gli Harry Potter C'è sempre La parte di Natale Come c'era anche quella di Halloween Negli ultimi Non c'è proprio niente Di bello C'è la neve C'è la neve C'è scritto HP Lovecraft Comunque Ho visto Effettivamente Non è un regalo Il mantello Perché è effettivamente Suo Non è un regalo L'ha semplicemente Restituito L'effetto È fatto Vabbè Non è che ci vogliamo Ora Però non mi ha fatto male Che è che glielo Mandava È Silente Ce l'aveva Silente Ah Silente ce l'aveva Non me la raccordavo Questa cosa È stato un momento In cui Silente Aveva tutti e tre I 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 Anche la La risurrezione Ce l'aveva Silente Tra i doni Della morte Perché non le sapevi Ma tu non le hai mai visti Vex No Vex Li ha visti A pezzi Tipo diceva È vero Cimax È vero Sì hai ragione Non le ha mai avuti In contemporanea Ce l'ha avuti L'ha avuti Tutti e tre Ma in tempi diversi Ma fai più casino Brutto scemo di merda Se bruciava tutto Invece Guarda Guarda È To Scemo Sì Anch'io quando ero piccolo Sono spentato un sacco Per quel libro lì Che usciva così Era il libro della mummia Esatto Il mantello è effettivamente grande Ma poi Lui se lo mette In modo C'è la spaccatura È bravissimo È bravissimo A tenerla Chiusa Perché lì Se no Si apre E si vede Lì dentro Invece Invece è bravissimo A tenerla Giù Eh Scemo Sì c'è il fantasma Che fa gli scherzi Che non c'è Nei film È visibile È visibile anche da dentro Per fuori Sì è magico Lui sa che esiste Il mantello Dall'invisibilità E' spavento Grazie E' come regalino Grazie Grazie La proibita Solo per gli studenti Sì Per lì sì Grazie 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 Questa era la stanza Delle necessità Tra l'altro No No Questa è una stanza No Tra l'altro Ma senza necessità Necessità compare dopo Al quinto Eh sì No Nel quinto Ah sì Non nel quinto La prima volta Questa è una stanza Normalissima Ah sì Zarkos Dopo guardiamo Guardiamo Ma sai che Credo ci siano più versioni Di Harry Potter Che l'abbia sistemata E ste cose Può essere Sì Fino all'ultimo film Stava dormendo Ma poi Ma poi L'ha preso Con il mantello A calzino Per tirargli La coperta Ecco Qui diceva Zarkos Vediamo Sì in teoria E' vero Sì è vero Sì è del verde Ma sti bastardi Dai Gli è caduto Il green screen Si tra l'altro Quando venire a vedere C'erano altre persone Dentro quella stanza Noi lo guardiamo in itam Potete vederlo come volete Tanto ognuno lo vede Lo vede come vuole Sì sì Guarda che non c'è Si Che è che sta facendo la pipì E' un mago E' vero Sirius E' vero Effettivamente E' vero E' vero no non è grande il miseria no l'aveva messo lì un attimo ma lo devono spostare allo specchio l'aveva messo casualmente in una stanza vuota non chiusa a chiave non chiusa a chiave né nulla è vero si nel libro silentement ti va ad R è vero e cosa gli diceva non mi ricordo però effettivamente gli diceva una cosa che effettivamente non vedeva faglia di questi calzini di là io li vorrei ma nelle dita gliela buttato che dolore guarda che gli fa male guarda che gli fa male la mano sai che questo qua credo sia stato un errore eh si gli ha spaccato il libro nelle dita fortissimo questo credo sia stato un errore ma l'ha tenuta gli ha spaccato ma che stronzo no che cazzo chiedi purtroppo molta lore c'è leggendo i libri purtroppo aperto aperto data che non è mai inquadrato insieme agli altri a peccare vedi che non farò mai vedere il volto di agrid insieme agli altri attori è un bello Thor che lui è un mastino napoletano tra l'altro no? no non mi ricordo cos'è un... non mi ricordo oppure vengono inquadrati così con la prospettiva è vero tra l'altro nel prossimo film c'è la parte preferita di Mark quale? ha otto zampe davvero? ha fiero becco ma che fiero becco ah no non è fatto male ecco ecco papà spero non mi codo le guardie qui erano nobili le intenzioni prima quando hanno rotto le palle al troll gli ha dato pure i punti però gli ha tolto 50 punti a testa su 150 punti gli aveva dati 5 e gli aveva dati rispetto le tue buone intenzioni ma non si fa spero sarà un troll ma che cazzo dici ma non è vero non voglio andarmi a fare una tisana mi fanno i dispetti se gli altri è solo un culo dopo tutto se gli altri draghetti gli fanno i dispetti come si gira tutto che bello ragazzi riguardarsi queste cazzate insieme dai giò paolo ma non è qui gobalt no è nel secondo nel secondo è quello no non è il primo dove c'è Aragorn H no no qui c'è c'è Firenze sempre di Seidonia a Firenze esisteva nel il centauro che poi diventa anche professore negli anni successivi che qua non l'hanno mai fatto vedere da piccoli è abbastanza pesante questa porta qui il ragno l'ha fatto molto bene che bello ecco poi la lanterna peserà 90 kg con la lanterna lì ecco lo film fa se c'era il meme con lui con il manopesso invece tantissimi meme tutti del primo film basta certo non deve essere una pulizione Skipper non è una pulizione sì non è che non era una caccia era un assassino cioè era un assassino di unicorni però lo sapevo quello assassino no Palpatine quindi qui era ok l'ho girato al contrario no in realtà l'ho girato giusto sì no non è che c'è era proprio lui si muove strano perché non ha senso sta cosa si muove a fantasma infatti non ho questa scena non l'ho capita nel film dovrei rileggermi il libro ecco lo fiero becco ecco lo fiero becco fiorenzo e lui scappa da fantasma ma non ha senso c'è qualcuno che me lo può spiegare che si ricorda i libri cosa diceva perché non mi ricordo e fiorenzo era molto importante è esatto quello che penso anch'io eh sì ma non può scappare così da fantasma che non ha senso a volte molto può volare ma non no no ma era per forza un raptor però eh sì cioè l'ha reso semplicemente per fare la scena figa ma perché fiorenzo che sapeva tutto sì l'ha fatto così per scena nel film è stato tutto lui ha detto i libri prima eh quanti ma dimmi di più dimmi cosa farò da grande ma poi andate a dire da silente andate subito da silente e dite che c'è Polde in giro non lo possiamo dire ragazzi se non avete Prime non lo guardate perché non possiamo modello è che sono film usciti vent'anni fa però e lo tranquillamente in blu-ray effettivamente ma beh darkness possono andare a parlare con fiorenzo si guardiamo tutti no no non è fiorenzo l'unico mago che è draco è draco quello che corre là in fondo quello che è passato era draco perché era tutto biondis può essere può essere è disinfettala già che non si è cicatrizzata ben bene dovresti andare da un dottore nessuno ti ha portato mai dal dottore e anche mi vuole dire di leggere di leggere di leggere di leggere di leggere Grazie. Quanto crischi indietro? Sì. Ma troppo! Chiama la polizia, Hagrid. Stanno andando chiaramente subito da fuffi. Vabbè, due secondi ci mette, se te le trasporta là. Ciao Aurora. Invece, c'è Hagrid in giro a dire come prenderla. Vado a farmi la tisana. Corro. Adesso che c'è la parte migliore, scusami. Bec. Molti sono veri gli interni. Alcuni sono i prodotti in studi. Sì, gli interni sono di Castello. Alcuni corridoi, anche di alcuni dei film futuri, sono anche di alcune chiese in giro per la Gran Bretagna. Ah. Sì, gli interni sono la vada che dà. 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 C'erano tante di barriere. c'erano altre due mi pare altre due che non fanno vedere nei film ma c'erano nei libri una con le pozioni c'era c'era quella con le scope la scopa è quella delle chiavi ah c'è? quella delle chiavi c'è ah si c'è vero non c'è quella delle pozioni c'è quella da blo blo qui ma non toccarla però è giusto giusto vedi? cazze seba e se venivano sbranati cosa? cioè per vie legali cosa succedeva? l'avranno avvisati che rischiavano la morte ah l'altro questa è tutta lo dice anche Kalel è tutta la scena tirata al contrario cioè loro erano legati e si slegavano e poi l'hanno montata al contrario quindi dovevano anche recitare al contrario è tutto in reverse questa scena ha cagato Enrico ma se urlano lo sente cioè se loro sentono lui di conseguenza ecco qui il verso del T-Rex di Jurassic Park tra l'altro era il verso del T-Rex di Jurassic Park sono fatto una tisanna camomilla e liquirizia è fenomenale fa bene allo stomaco e che brucia tra cui le hanno ridotte per fare una prova a testa tra virgolette prima per il mio e questa per Harry e quella dopo per Ron forse c'era un'altra quella di pozioni sicura poi forse c'era un'altra ancora quanto è andato convinto di riuscire da qui ormai andava guarda che Davra sul lucchietto lo rompeva bombarda massima sulla porta e via sì esatto ero due quella dell'oro anche sì è vero è dell'oro sì comunque se ce ne erano altre due minimo sì quindi quello con meno esperienza il marchi ingegno non si muove era è vero sì c'era il troll ma era già steso perché l'era passato prima quello non lo ricordo anche io forse c'era nel gioco quello era nel forse c'era nel gioco ah può essere sì perché nel libro c'era nel film nel gioco ci sono le pozioni eh ma del primo ci sono 7000 versioni del gioco e quindi vediamo questa è una miniera questa è vera cioè nel senso l'hanno riprodotta tutta e si muovono realmente a parte quando aprono le spade che qual è il CGI adesso si muovono tutte effettivamente con dei motori sotto questo è fatto al computer ma il movimento tutto il resto è tutto vero baggianate dico io grazie a tutti no è uno scherzo Hermione non è che ne manda uno a morire per vedere se è vero era meglio non scoprirlo rom comunque è sprecato un pedone però che soddisfazione poi esplodono di cinque erotico non scoprirlo tra l'altro non aveva capito un cazzo è vero non so giocare sta coglione sta tutto lei è rimasta la regina degli scacchi i miei coglioni lei vedi è uno scherzo 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 secondo me se scendeva infatti poteva scendere c'è un po' di istinto umano no gli è preso un sasso nella faccia è morto per davvero ah to' scemo ma si è muoce si sta muovendo la bocca sta simulando non è che ha simulato ah ah presto un gufo urgente che poi bastava passare intorno agli scacchi bastava passare intorno agli scacchi e via guarda che prendeva in giro quelli che bel vetro non è cattivo va bene arrivo con i pantaloni bragaloni qui da muratore guarda che prendeva in giro no no altro qui il regista mi ha chiesto di rifare la scena poi per mettere l'attore che fa poi però vabbè anche così alla fine qua è uno sgorbio quindi aveva pure il naso qui è vero in realtà di profilo ci sta anche che si aspetta molto bravissimo oh no però sono morti è vero qui c'era gli occhi rossi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti un po' di poteri di Voldemort ci sta ma l'uccidi strozzando ma faglia Vada Kedavra scusa questo è un coglione è stato blippato ha fatto un omicidio qua ha fatto proprio un omicidio di sua spontanea volontà è andato con l'intenzione di ucciderlo però adesso arriva la McGranny che gli dice 5 punti nonostante tutto però bravo quindi 50 punti agrifongiologi infatti glieli dà poi 50 punti questa scena non l'ho capita la gemma della realtà però è rimasta a lui e torna tutto Marco nell'universo Mario era uno senso per farlo svenire comunque va da Kedavra o magari gli rimbalzava un'altra volta era un casino e poi questa scena è un'altra volta che è un'altra volta si si quella non ha molto schifo l'altro Nicolas Flamelia si vede in animali fantastici grazie a tutti 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 Ahimè Poi ho già ripensato e ho detto no che poi sembro strano Niente dall'81 no? Allora no 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 Ha vinto Serpeverde Pilotato dall'inizio Infatti Se non gli davano a quei 5 punti Nel libro c'è ogni volta Il film è solo qua e basta Grandi corvo nero Tonsuke 15 Quanta punti in più Io qui avrei fatto un ricorso Della madonna comunque Guarda Peter Non puoi dare Il premio e poi ritrattare Dov'è che era succedere? Senti guarda come li Sfancula Sì sì Serpeverde Sì sì Quello pizza Coglioni Sì sì Avete capito Serpeverde Ah coglioni Te pensa invece Tassorosso Che era terzo Adesso si ritrova Ultimi Inculato Presidente Alessandro Borghese E poi non l'ha vista nessuno Questa partita Scacchi Cosa ne sai? Vabbè lui sa tutto Per aver ucciso Voldemort Cosa? 6.000 punti Perché lui 60 poi? Eh perché se non riusciva a vincere Se non riuscivano a fare i giusti calcoli Cosa? Infatti aver fatto fuori Voldemort Altro che 60 punti E per questo che Cosa è andato a spacciare poi Eh Sì li faremo tutti in video parties Aladri Abusi del culo Che ladrata Ma merda Vaffangul Se la festeggiano tutti voi Infatti c'è rimasto malissimo Certo Ecco Questo bell'insegnamento La morale è che Se c'è da mettersi in pericolo Non studiate Perché tanto Mi raccomando E' più importante Rischiare Esatto Anche la vita Piuttosto che invece Farsi i cazzi propri Non mi ricordo Gli altri anni Chi vinceva però Non mi ricordo Non vinceva sempre No Non vinceva Riffon Brodo No No Mi c'erano anche altri Comunque I Ferragni E' più che effettivamente Deve informarsi A chiedere al governo di Londra Se lo sa Opa delle case La vincevano sempre loro Non me lo ricordavo Invece quella del Quidditch Fino al sesto Non la vincevano loro Un deepfake Che bel regalo Una cosa mai successa Questa è la prima scena Girata di tutti i film Ah Ho girato la fine Adria Veramente Tutti gli insegnamenti Terribili Ho fatto un saluto Hagrid Però che era fascista Gli ha fatto anche il segno Di suga suga Gli ha fatto Non mi viene a frega niente Degli altri Salute su loro E poi basta E niente Pippi Pippi Mi fa male la schiena Bello Mi è piaciuto Non mi aspettavo il finale No Bene Il primo è andato Non lo interrompo Per sempre Il numero due L'Italia Attualmente Il primo Un altro Come vedo la classifica Termina il video Pari Così torniamo grossi Come si vede la classifica Di chi? Di Delle case No Di film più visti Attualmente E non lo so Perché a me qua dice Top 10 Numero due in Italia Attualmente è Mary Potter Proprio vedere il primo Secondo Probabilmente mercoledì A sto punto Sì Io farei Mercoledì il secondo E giovedì il terzo Intanto Poi vediamo Vediamo come andare avanti Mercoledì Sempre le nove Il secondo E giovedì Sempre le nove Il terzo Vediamo al che mi manca Dai Che mi avrei dato Mi avevo stato Nel more by night Tra l'altro Dove ruttare io Sì è bello guardare Sì È sempre Sempre figo Guardare Come è al Come è al Al trattino basso tv Marco Mi fai sì con la testa No E al tv Senza il trattino basso Dopo Al tv Mi ricordavo Un trattino basso Non mi ricordavo Bello no? Sì Amici Vi salutiamo Con la mano Ciao belli Grazie per essere Spastati Domani mattina Domani pomeriggio C'è Marco Col Marchedì Che fa l'unboxing Delle carte Di Yu-Gi-Oh Bravo Marco Con due pollici Le fa tra l'altro Domani sera Con la live Di beneficenza Di soft teaser Che dura tre ore Mentre per il film Andiamo avanti Mercoledì Sì Ciao belli Ciao Ciao Grazie.